Stipendi da fame, precarietà e zero carriera. Con 20 ore di lezione nel lavoro almeno 40, i prof smentiscono il mito del tempo libero. Il dibattito sulla condizione economica degli insegnanti evidenzia la sicurezza del posto e le ferie come vantaggi per la vita familiare, ma critica la retribuzione inadeguata. La possibilità di conciliare lavoro e vita privata, in particolare durante la crescita dei figli, è un elemento di grande valore, come sottolineato da diversi commenti online. Dall'altro lato, la retribuzione, considerata da molti inadeguata rispetto al carico di lavoro e alla responsabilità del ruolo, spinge molti a cercare alternative più remunerative nel settore privato. Le ripetizioni private sono spesso una necessità per integrare il reddito. Al sud, la casa di proprietà è un vantaggio, ma molti si spostano al nord, dove il costo della vita è alto. Al sud, la casa di proprietà è un vantaggio, ma molti si spostano al nord, dove il costo della vita è un vantaggio. Grazie. 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 Grazie.